Siamo tornati in onda e le devo fare un supplemento di domanda. La prima se pensa che il trattamento che lei ha denunciato sia dovuto al fatto che è una regione amministrata dalla sinistra e non dal centrodestra. La seconda, ma lei non ha difeso però Elislein ora, era una sua assessora, la sua vicepresidente, perché non ha detto che ha lavorato benissimo? Parto da questa seconda. Ho detto che voglio star fuori dalle polemiche di Bignami, che ne apre una al giorno, perché le accuse non le fa mica solo Elislein, le fa anche al sottoscritto. E noi non è che abbiamo bisogno di difenderci per fare propaganda o per alimentare un teatrino della politica che ha stancato tutti. Facevo riferimento prima a leggi importanti che abbiamo approvato. Elislein ha lavorato benissimo con me, se non avesse lavorato bene con me da vicepresidente, permettetemi, non sarebbe arrivata nel posto dove è arrivata. Prima in Parlamento italiano e poi nella vittoria alle primarie per fare la leader del Partito Democratico. Ma guardi, io sono così anche per me, cioè io voglio rifuggire da un teatrino che vede la destra. Rimango colpito che la giornalista prima l'abbia sottolineato per niente. Ma non vi fate una domanda voi. Ma se si ferma questa parte del paese, sì sì, ma col terremoto 12 miliardi di euro sono stati trovati dallo Stato, ma sono tornati indietro con l'interesse nelle casse dello Stato, se uno sa di cosa parla e ha conosciuto questi anni questa terra. Perché là dove si produceva l'1,9% del PIL italiano, oggi se ne produce il 2,4%. E quindi ci sono più posti di lavoro e più imprese. I soldi che verranno dati all'Emilia-Romagna non è che sono soldi spesi a fondo perduto, torneranno indietro con gli interessi nelle casse dello Stato. se questa come la Meloni, e la ringrazio, la descrisse, è la locomotiva d'Italia, perché a proposito delle cose fatte in questi anni da sottoscritto e da Schlein, è la regione che è cresciuta di più negli ultimi otto anni in Italia. Allora la domanda la giriamo a Sarina. Ellie non ha bisogno delle mie difese, è una persona che, sapete, stimo, è una persona capace, è una persona che ha già dimostrato abbondantemente le sue qualità. La prima cosa, quella del governo, io non ci voglio neanche pensare che il governo voglia penalizzare l'Emilia-Romagna perché è una regione governata dal PD e dal centrosinistra. Ma è proprio da escludere. Chiaro, acquisiamo la risposta.